Benvenuti a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono crickeywamer89 e siamo qua anche c'è mia sorella, saluta Noemi Ciao Qua vi farò vedere le carte Ehm, sono Aspettate, ve le faccio vedere Noemi, tieni, riprendimi tu Mi vedo? Si Allora, queste carte sono tutte quelle là speciali Vabbè, comunque, qua ci sono tutte quelle là C'è una stella, un super draft, una coppia imbattibile, una stella, due super draft, un Iron Man, tre idoli, due super draft, una coppia imbattibile e un idolo E queste sono tutte quelle speciali Queste luccicanti E qua ci sono quelle là, quelle là che non sono speciali Vabbè, vabbè, guardate Noemi, riprendile Riprendi qua Guarda quanto sono, vabbè Sono messo strammato perché non abbiamo molto il tempo Ehm, il video finisce qui Vi volevo fare vedere questa cosa Ehm, volevo vedere un'altra cosa Ehm, mio papà è andato a sistemarmi la PlayStation 4 Che, appena arriverà ci giocheremo Faremo una Un video Un video notturno Su Fortnite FIFA 19 il demo Questo è FIFA FIFA 17 Sì, giocheremo Mentre faremo un video Ecco Noemi, mia sorella Noemi Mi riprenderà Riprenderà Mentre farò il video Sì, eccomi Allora, ora che se si riprende lui Allora E vi volevo dire Il video finisce qui Iscrivetevi Mettete un like 10-11 like Iscrivetevi E attivate la campanella Bella a tutti ragazzi Salute Noemi Ciao Al prossimo video Taa